video perché perché si, ci vuole, ci vuole allora facciamo così intanto youtube quando caricherò i video di home assistant se c'è qualche script lo vado a inserire dentro le note del video e cavolo quindi andiamo a prendere la playlist del home assistant che è quella che ha più roba ci rechiamo su il primo S45 oppure andiamo a usare altro altro home assistant materiali link in basso nella cartella scendiamo giù link ai file google e aprirà la cartella di google da cellulare ovviamente si vede un po' peggio home assist è fotovoltaico e andiamo a prendere lo script che è questo TXT rinominato in TXT perché potremo avere problemi però se lo rinominate normalmente troverete lo script normale se aprite il TXT mettete a capo e andrà a capo questo script lo andate a copiare poi dentro home assistant mettendo i vostri dati e seguendo il video piccola informazione ogni video se c'è uno script sarà rinominato con numero video e numero script stessa cosa per le fever numero video e numero script man mano che aggiorno lo script andrò ad aggiornare versione 2 versione 3 versione 4 con eventuali cose che escono fuori che escono fuori